Guarda, praticamente non siamo mai usciti dalla stanza. Oh, risparmiami i dettagli, stai parlando di mia sorella. A proposito dei dettagli, sbaglio o tu non hai ancora parlato con tua moglie? Di che cosa? Ma come di che? Alla festa di compleanno ci abbiamo messo una pezza, però l'SMS c'era davvero? Ah, quello, ma figura, ti ho risolto. Ho chiuso l'altra storia, che tra l'altro è una sciocchezza, poi per sicurezza ho anche cambiato il numero di telefono. E per San Valentino mi sono fatto tatuare questo. Tu devi avere veramente un sacco di cose da farti perdonare, mi sa. Tu piuttosto per San Valentino che cosa regali alla mia sorellina?